Due giorni di confronto in Consiglio regionale a Venezia tra i componenti della Commissione Permanente Sanità e Sociale e tutti i soggetti portatori di interesse sulle nuove schede di dotazione ospedaliera approvate dalla Giunta del Veneto. Presenti ovviamente anche i rappresentanti della Sanità Padovana. C'è preoccupazione per le sorti dell'ospedale Sant'Antonio e per alcuni reparti di Campo San Piero. I comitati dei cittadini sono pronti a tutto per proteggerli. Il direttore generale Scibetta gli ha risposto che non c'è nulla da protestare perché nulla è stato ancora deciso. A noi non vogliamo e non possiamo penalizzare nessun territorio soprattutto l'utenza quando parliamo di sanità e di salute. È chiaro che oggi dobbiamo riorganizzare in base e ci ripetiamo ai numeri e ai parametri del DM70 2015 in base a quelle che sono le esigenze, all'evoluzione che c'è stato nel campo sanitario e della medicina e oggi ahimè anche un altro problema che noi dobbiamo affrontare è quella della carenza dei medici. La sanità veneta sta cambiando ha aggiunto l'assessore adeguandosi per esempio all'invecchiamento della popolazione progredendo nella chirurgia mini invasiva nell'utilizzo dei posti letto legati all'effettiva occupazione. Le opposizioni sono preoccupate. È una sanità peggiore perché riduce i livelli di servizio di assistenza nel territorio. Ci sono molti posti letto ospedalieri che scompaiono per diventare posti letto di strutture intermedie ma non è la stessa cosa. Vengono a mancare anche importanti responsabili di reparto, i primari e dove c'è il primario vuol dire che c'è un servizio che funziona, che ha autonomia organizzativa e poi vengono anche a mancare dei servizi come la psichiatria che magari non fanno molto notizia ma vanno a intervenire nelle fasce più deboli della popolazione. Sulla riunione odierna il rettore del BO ha espresso invece la sua soddisfazione. Per aver voluto legare il disegno delle nuove schede ospedaliere al progetto del nuovo ospedale e quindi immaginare già oggi la proiezione futura della medicina, della medicina padovana e veneta. Grazie. 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 Grazie.